Benvenuti a un nuovo e incredibile capitolo della vita di Vanda Nara. Oggi, sveleremo un segreto che pochi conoscevano, un aspetto affascinante e intrigante della sua vita. Siete pronti ad essere catturati dalla storia della moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Vanda Nara, che rivela una sorprendente dipendenza. Mettete un like ed iscrivetevi al canale per nuove notizie e aggiornamenti. Vanda confida ai suoi follower sui social network di avere un'ossessione nascosta, qualcosa che forse non avreste mai immaginato. Ma qual è questa dipendenza misteriosa? È il ghiaccio. Sì, avete sentito bene, il ghiaccio. Ma qual è il termine scientifico di questa dipendenza? È conosciuta come ipagofagia. La pagofagia è caratterizzata dalla masticazione compulsiva e dal consumo smisurato di ghiaccio. Può avere radici psicologiche o essere una risposta fisiologica all'anemia sideropenica. Tuttavia, uno dei problemi più evidenti legati a questa dipendenza è il danneggiamento dei denti. L'uso eccessivo di ghiaccio può rovinare lo smalto e causare problemi come il dolore ai denti e un'aumentata sensibilità al freddo. Vanda Nara ci racconta la sua straordinaria storia, ricordando un periodo così disperato durante la gravidanza che la spingeva a chiedere piatti di ghiaccio nei ristoranti. La sensazione che il ghiaccio le procurava era così irresistibile e piacevole che sembrava non poter resistere. E voi conoscevate questa patologia di dipendenza dal ghiaccio? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere le ultime notizie.